Amici di Catanzaro Sport24.it, appassionati di grande calcio, un saluto da Andrea D'Agiano. Oggi per la diciassettesima giornata di campionato andiamo a vedere il Foggia, prossimo avversario del Catanzaro, partita che si disputerà domenica 5 dicembre alle 12 allo stadio Nicolà Cerabolo, albitra Federico Fontani di Siena. Il cammino del Foggia fin qui dice 24 punti, ad insiedare almeno uno il Catanzaro, Foggia che ha realizzato 27 reti e ne ha subiti 16. Adesso andiamo a vedere la probabile formazione di Zeeman, per domenica pomeriggio 4-3-3 del Boemo, Volpe in porta, Nicoletti e Garattoni a fare i terzini, i centrali Girasolo e Sciacca, i tre nel mezzo Garofalo, Peterman e Gallo, le due mezze ali Curcio e Tuzzo, a supporto dell'unica punta Ferrante.